allora ragazzi salvo siena con 150 grammi come canna abbiamo neox dsc 911 sf e questa in questo caso è la versione 450 della yuki ora la prima in ground con 150 vediamo vediamo come risponde questa magnifica canna che cos'è questa 911 dsc in ground ragazzi guardate che spettacolo il filo vi alcia spettacolare ragazzi ora vi facciamo vedere anche la vetta col 150 e ci facciamo dare anche le impressioni da salvo dacci la tua impressione è proprio da dire spettacolare eccezionale tanto queste qui sono di caldo male la serie si queste sono le dsc uno spettacolo una vetta sensibilissima hai avuto anche la vecchia serie ho usato la legend tra questa qui è il modello anteprecedente perfetto ma diciamo non c'è rispetto alla legend è più più pastosa ok rispetto alla vecchia 911 diciamo che ho avuto la sensitive che era la vetta è molto più sensibile perché questo è il modello standard per questa differenza e comunque è comunque la vetta diciamo che è un incrocio tra la sf della vecchio modello la legend e la 360 ok quindi polivalente come canna una canna che un garista dovrebbe avere carbonio hanno messo lo stesso carbonio che hanno usato per la leggende quello intrecciato penso che lo vedete ragazzi guardate che bello comunque nella recensione poi l'avete visto ve l'ho fatto vedere particolare davvero bella così avete anche l'impressione di chi le ha utilizzate e le utilizzo anelli al canale no queste ne torside torside col ponte in titanio ha fatto la gaffa no vabbè si è gaffato si è gaffato si è gaffato non è abituato davvero spettacolare adesso ora vediamo angelo che la prova adesso angelo inside sempre col 150 sempre la stessa canna 911 dsc non se ne nemmeno accorta la canna ma guardate come piace mamma mia ragazzi impressionante un droppo corto la canna non ne risente completamente cosa ci puoi dire di presentazione vabbè diciamo che un nome una garanzia la 911 spettacolare bellissimo e se è una di quelle canne che non deve mai mancare sensibile e posta si può forzare senza molto polivalente la vetta ragazzi e che ve lo dico a fare questa ve l'ho fatta vedere prima con salvo guardate che vetta che c'è mamma mia molto 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 bello seguite le nostre dirette perché alla fine di tutte le dirette angelo e salvo siena non è salvo siena ca vi daranno le loro parature e ripagere quelle magiche quelle speciale poi ora ve le faccio vedere ragazzi continuate le dirette perché alla fine ci saranno però solo alla fine andrea solo la solo alla fine ragazzi solo alla fine ragazzi solo alla fine a dopo a dopo ciao